Ben ritrovati ragazzi, ci siamo spolpati questi 700 bei chilometri di pampa, siamo belli appampati tutti quanti, bruciacchiati come che, però ce l'abbiamo fatta, siamo solo a 10 chilometri, adesso ci dobbiamo dirigere verso l'albergo, l'ostello, vediamo che cosa ci aspetta questa volta, questo è l'ingresso diciamo della provincia di Santa Rosa, qui sono aumentate le macchine, siamo vicini alla città, qui c'è la nostra pupa, della quale questa volta voglio mostrarvi una cosa particolare, una diavoleria che si è inventato il vostro Mario Webmaster, questa volta si è fatto supportare da tutto quello che la tecnologia poteva dargli, guardate cosa ci abbiamo dietro, guardate un po', guardate cosa abbiamo qui, nel cofano dietro, nel top case abbiamo un bel computer che ci dirà adesso la strada da fare, a dopo ragazzi, ci sentiamo dopo, appena trovato l'albergo, a presto.